Buongiorno a tutti, io intanto mi presento, sono Elisa Carrari, appunto attualmente lavoro come ricercatrice presso il laboratorio di botanica applicata del Dipartimento d'Agri, ma ho lavorato appunto precedentemente come assegnista per il progetto EFFORT, di cui il responsabile scientifico è stato il professor Bindi, che porta i saluti oggi e si scusa di non poter essere presente, e ha riguardato appunto come potete vedere la salvaguardia e la valorizzazione dei giardini storici, quindi prima di raccontarvi le attività che abbiamo svolto durante il progetto mi soffermo un attimo su quella che è la definizione di giardino storico, quindi un giardino ovviamente di origine storica, che è caratterizzato però da una preziosa componente artistica, ma allo stesso tempo da una componente vegetale che è molto abbondante, viva e quindi deperibile e rinnovabile. Per questo motivo ovviamente il giardino storico ha il merito di non portare soltanto i valori tipici del bene artistico, ma anche di offrire tutti quei servizi che sono tipici invece di una foresta urbana, come il miglioramento della qualità dell'aria, la biodiversità, lo stoccaggio di CO2. Allo stesso tempo purtroppo questo si porta dietro anche delle criticità che sono date diciamo da dei fenomeni di senescenza che attualmente riguardano i giardini storici proprio per l'età che hanno, che sono aggravati dalle problematiche relative ai cambiamenti climatici e oltre ovviamente alcune difficoltà gestionali che caratterizzano la gestione appunto di questi, di questi ambienti. Quindi l'obiettivo di effort è stato quello di testare delle metodologie di monitoraggio che noi abbiamo definito smart, ovvero ad elevata tecnologia multidisciplinari e convenienti quindi economiche e speditive, grazie, che potessero offrire diciamo uno strumento ai gestori per affrontare appunto le complesse sfide in cui appunto si trovano i giardini storici. Quindi il progetto inizia nel 2020 tramite la collaborazione del Dipartimento d'Agri appunto con l'IBE, l'Istituto IBE e l'Istituto ISPC del CNR, lo studio di progettazione per il paesaggio Bellesi Giuntoli e la direzione regionale dei Musei della Soscana che ci ha offerto il, anche ci ha offerto la, diciamo i casi studio ovviamente su cui applicare le nostre metodologie che come potete vedere in questa slide sono il giardino della Villa Reale di Castello e il giardino di Villa La Petraia, scelti per l'importanza che questi giardini hanno nella storia del giardino all'italiana, Castello è proprio il primo esempio di giardino all'italiana e Villa La Petraia che è di poco successiva a Castello, è caratterizzata la peculiarità di avere come potete vedere da questo ortofoto un stesso parco romantico, inoltre i due giardini sono vicini, si trovano vicini tra loro nell'area periurbana fiorentina e quindi ci offrono un sistema su cui è stato possibile testare le metodologie che sono del nostro progetto che come potete vedere e come vi presento molto brevemente oggi hanno il carattere multidisciplinare che rappresenta un po' quello del suo paternariato. Quindi abbiamo iniziato da uno studio della vegetazione del giardino, siamo passati al monitoraggio della componente arborea, ovviamente ci siamo concentrati sulla componente arborea proprio perché è quella che maggiormente poi è legata alla salvaguardia dei visitatori e delle opere artistiche, abbiamo effettuato anche un monitoraggio innovativo sugli agromi invaso di cui però purtroppo oggi non faccio in tempo a parlare e poi alcune situazioni di interazioni tra i manufatti artistici e la componente vegetale. Quindi come vi dicevo appunto siamo partiti come prima cosa dalla mappatura della vegetazione dei giardini, quindi tramite inizialmente tramite la foto interpretazione delle ortofoto di questi giardini ma poi ovviamente questo è stato combinato appena possibile appunto appena il covid ce l'ha permesso con rilevamenti a terra sui quali ci siamo soffermati proprio perché volevamo sottolineare anche il valore ambientale di questi ambienti. Quindi abbiamo redatto una lista di tutte le specie vegetali presenti, sottolineando proprio il contenuto alla biodiversità che forniscono questi giardini, abbiamo individuato un abito prioritario tipico delle formazioni dei prati stabili con una stupenda fioritura di orchidee, viene definito proprio così a livello europeo per il quale i gestori hanno già preso delle misure di conservazione. Poi come vi dicevo ci siamo occupati per la maggior parte diciamo del nostro sforzo appunto del monitoraggio dello stato di salute della vegetazione arborea. Questo l'abbiamo fatto su due livelli, un primo livello è stato quello appunto relativo diciamo un monitoraggio ad ampia scala di tutta la vegetazione del giardino, arborea del giardino, che è stato realizzato diciamo partendo un po' dal risultato che erano le mappe create nella prima fase del progetto, estraendo da queste appunto quelle che avevano una componente arborea e ricavandoci per questi dati dal remoto, in particolare dati Sentinel e dati LIDAR, entrambi diciamo fruibili gratuitamente, insomma che si possono trovare gratuitamente online. I dati Sentinel sostanzialmente ci hanno fornito delle immagini ad elevata risoluzione, sono pixel 10 per 10 metri e ad elevata risoluzione anche temporale, sono disponibili ogni circa 10 giorni e ci danno indicazione appunto, ci offrono un indice di vegetazione, l'NDVI, il Normalized Vegetation Index, che appunto ci indica, ci dà un'indicazione dello stato di salute della vegetazione, quindi più è alto sostanzialmente questo indice, minore è la situazione di stress in cui si trova la pianta. Questo dato abbiamo voluto abbinarlo con un appunto un metodo innovativo a un dato quantitativo che ci ha dato il LIDAR appunto. Questo valore insomma così ottenuto dovevamo a questo punto estrarre un criterio per definire quando appunto ci fossero delle situazioni di criticità dovute dallo stato di saluto delle piante. Questo era ovviamente è stato necessario farlo con dei rilevi a terra in cui sono stati osservati lo stato di salute della chioma e in cui appunto abbiamo attribuito ad ogni pixel scelto come controllo la categoria di sano o malato. Questo ci ha permesso di definire un criterio e di validarlo e il risultato è stato una mappa in cui vengono evidenziate le aree più critiche del giardino, quindi questo sostanzialmente può aiutare il gestore a concentrare le proprie osservazioni, le proprie contromisure in determinate aree e per la prima volta appunto si va ad applicare una tecnica che magari è tipica dell'agricoltura o della servicoltura di precisione a un bene storico di questo tipo. L'altro tipo di monitoraggio che riguarda sempre la salute delle piante si è concentrato più su singoli individui. Abbiamo scelto degli individui che ritenevamo monumentali, quindi eccezionali per età o per dimensioni all'interno del giardino e anche per motivazioni storiche. Infatti abbiamo scelto, abbiamo individuato questi esemplari da quelli che vedevamo ritratti sostanzialmente nelle lunette di Utens che sono delle pitture, di questo pittore fiammingo di fine 500 che ha ritratto tutti i giardini delle ville medice e grazie a questi vediamo per esempio come il cipresso era una specie tipica del giardino di Petraia a quel tempo e come per quanto riguarda il giardino di Villa Castello vi fossero degli individui arbori di notevole dimensioni che potevano essere molto probabilmente queste querce sia sempre verdi come il leccio che decidue come la roverella presenti appunto sulla terrazza del giardino. Un modo per valutare lo stato di salute di queste piante abbiamo appunto cercato un modo che fosse più automatico, rapido e speditivo possibile è stata l'utilizzo di fototrappole, quindi plant cam che hanno, che sono state ovviamente installate per inquadrare la chioma delle piante che avevamo selezionato e impostate per scattare foto a intervalli regolari. Queste immagini poi sono state elaborate in dei software specifici e ci hanno permesso di trarre delle conclusioni su come appunto stessero queste piante, quindi l'abbiamo confrontato il loro andamento del verde della chioma, quindi la fenologia della chioma con altri, con individui prese a controllo e abbiamo visto appunto dove vi fossero delle situazioni di particolare benessere o di cattivo stato di salute. L'ultima esperienza che vi presento è quella, è una di quelle che ha riguardato l'interazione tra manufatti artistici e componente vegetale, quella che forse diciamo è stata quella più interessante, che ha riguardato la grotta degli animali del giardino di castello che è un esempio di arte manieristica ad opera di Vasari, Tribolo, Zambologna, insomma estremamente importante per questo giardino e chi per di voi la conosce insomma sa che si trova incastonata in questa nella parete appunto della terrazza di cui parlavamo prima appunto sopra la quale sono presenti questi alberi di grandi dimensioni. Ovviamente i gestori si sono chiesti se le fratture che si trovano all'interno della diciamo della stanza dove è incastonata la grotta potessero essere inconducibili a un'azione del dell'apparato radicale delle piante che si trovano su questa terrazza e che quindi insomma fossero causa di questa di questo danneggiamento. Allora per prima cosa siamo voluti andare a vedere quando queste piante fossero state messe a dimora in quel luogo e per farlo abbiamo applicato delle tecniche dendro cronologiche in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania per datare sostanzialmente queste piante e abbiamo visto che appunto avevano un'età di insomma che oscillava tra i 420 e i 500 anni quindi molto probabilmente sono questi individui sono coevi alla realizzazione della grotta e del giardino stesso. Poi abbiamo utilizzato una tecnica che si basa insomma su onde elettromagnetiche quindi un georadar per andare a vedere la distribuzione di questo apparato radicale e abbiamo visto che le radici sostanzialmente si sviluppano in direzione totalmente opposta a quella della grotta questo anche grazie al fatto che a suo tempo insomma i progettatori avevano pensato a degli spazi drenanti tra la pianta e la grotta che quindi facessero in modo diciamo dissuadessero la pianta da svilupparsi in quella direzione quindi questa è una cosa che è stata vista proprio nell'ambito del progetto effort. Concludo appunto dicendo anche insomma mi fa piacere anche dire che sono state realizzate questo diciamo un po' parallelamente a tutta il resto dell'attività di campo appunto nei momenti in cui magari non era possibile portarla avanti una redazione di linee guida diciamo finalizzate ad aiutare appunto i gestori, i giardini storici ad affrontare le sfide del cambiamento climatico in cui siamo andati a cercare tramite la bibliografia presente tutte le soluzioni pratiche gestionali che si offrivano alle diverse problematiche che appunto possono essere legate a fattori ambientali, fattori biologici, gli agenti di biodeterioramento e cause antropiche di diverso tipo e l'anno scorso sono state pubblicate e quindi diciamo sono disponibili per un pubblico internazionale come proprio best practice nella gestione del giardino storico. Diciamo per quanto riguarda il futuro di effort sicuramente possiamo continuare quello che è stato iniziato nei giardini che sono stati presi come caso studio magari aggiungendo una piattaforma web dalla quale si possano gestire questi dati di monitoraggio perché attualmente la gestione è complessa quindi per semplificare ulteriormente questi monitoraggi per rendere più disponibili ai gestori, la realizzazione sicuramente di sistemi informativi territoriali laddove mancano quindi nel sistema museale e ovviamente l'applicare i monitoraggi che i metodi che sono stati testati in effort a altri giardini storici e anche questo vale ovviamente anche per il supporto all'applicazione delle microdita che sono state definite e vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio anche tutto il gruppo di lavoro che ha collaborato appunto al progetto. Grazie. Grazie.